Abruzzo in zona rossa a ridosso del ponte dell'8 dicembre, mancano meno di 20 giorni al Natale. Tauci, voi parlate di un disastro annunciato. Assolutamente sì, perché lo scegliere di aver iniziato una zona rossa in anticipo non ci garantiva e non ci ha garantito di rientrare nella normalità, perché poi la normalità è un numero RT più inferiore a 1. Questa condizione non c'è stata o comunque non c'è in maniera consecutiva da un tot di periodo e quindi il problema è ricaduto sulle imprese, con una condizione economica che ci sta facendo veramente preoccupare in questo momento. A questo punto voi cosa chiedete, cosa proponete, anche perché il tempo sta per scadere? Immediatamente che venga effettuato, se si vuole bene alle imprese, un'attività di ristoro immediato, senza attendere i tempi della politica, diciamo che dovremmo avere gli stessi tempi del fisco, che ci chiede immediatamente soldi quando commettiamo un errore o quando non paghiamo. La Regione Abruzzo deve mettere in campo un team che lavori ininterrottamente per dare innanzitutto il ristoro che non ancora hanno le imprese, quello di riferimento di aprile, ma poi un ristoro su questo danno che si è causato, che è un danno che potrebbe diventare irreversibile. Dopodiché una campagna immediata, in un giro di pochissime ore, la Regione Abruzzo deve comunicare a tutti gli abruzzesi che bisogna acquistare in città, che bisogna spendere i soldi presso i ristoranti in città, che bisogna mantenere forte la nostra economia, perché se non accade ciò significa che molti lavoratori rimarranno senza lavoro nel 2021. e poi se passate con il piano. spña